La quarta posta che faccio è un bollettino a pagare, code che non si riesce a... Neanche il tempo di metabolizzare l'acconto che è già tempo di saldo per la Tasi. Entro il 16 domani tutti i cittadini e i residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro maggio sia quelli dei comuni che hanno sfruttato i tempi supplementari di settembre dovranno pagare. Con tutte queste tasse credo che insomma ne abbiamo abbastanza da pagare. Già fatto, già fatto. Poste prese da salto oggi ma molti padovani in realtà hanno già saldato i loro debiti con lo Stato. Bisogna programmarsi per tempo, insomma fare delle rinunce e tanto sono cose alle quali insomma non possiamo, non riusciamo a evitarle. È sempre cara, bisogna pagarle. Mi sembra molto intelligente infatti per dare impulso ai consumi al commercio decidere di pochi giorni prima della tredicesima o chi l'ha già anche incassata da poco destinarla totalmente allo Stato italiano. L'imposta sui servizi indivisibili costerà ai padovani oltre 28 milioni di euro. A pagare la Tasi saranno i proprietari di prima casa mentre i proprietari di un secondo immobile dovranno aggiungere a questa tassa anche l'Imu. La vita è fatta così perché è un conto di andare a fare a spesa, acquistare i beni di prima necessità, è un conto sono le tasse. Ma attenzione, manca l'Atari all'appello. L'imposta sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il conguaglio, è entro marzo 2015. Paga e Tasi invece che Tasi. La salute.